È ricoverato in gravissime condizioni un giovane che per cause ancora da accertare nella notte della vigilia di Natale si sarebbe lanciato da un taxi in corsa. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni stando a quanto riportato dal giornale Cremona Oggi sarebbe in coma. Sono in corso le indagini sulla vicenda in quanto le amiche che si trovavano con il giovane avrebbero raccontato che alla richiesta al taxista di pagare con la carta quest'ultimo si sarebbe mostrato contrariato. Tanto che sarebbe nata una discussione terminata poi con la richiesta del ragazzo di farsi accompagnare al bancomat. Le due ragazze sarebbero scese e il mezzo sarebbe ripartito improvvisamente con il giovane ancora a bordo del veicolo. Le due amiche spaventate avrebbero telefonato immediatamente alla polizia. Successivamente hanno udito un forte bote dopo aver percorso la strada fatta dal taxi hanno trovato il loro amico a terra e privo di sensi. Grazie per la visione!